7 febbraio Il mio cuore ardeva dentro di me mentre meditavo. Un fuoco si è acceso. Allora la mia lingua ha parlato. Salmo 39, 3 Un cuore ardente. Davide amava Dio al di sopra di ogni cosa. Era divenuto così sensibile all'opera dello spirito da percepirne anche più sottili richiami. E quando non li avvertiva, soffriva. Oh Dio, crea in me un cuore puro. E rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Salmo 51 Egli aveva un modo particolare di vivere il suo rapporto con Dio, supportato dalla guida dello Spirito Santo. Una vita che mostrava una simbiosi unica fra lui e Dio. Ecco perché ardeva il suo cuore. Quando meditava o pregava, sentiva il fuoco dello Spirito dentro di lui. Egli parlava quando lo Spirito Santo glielo comandava. Mi sgorgano dal cuore parole suavi. Io canto il mio poema al Re. La mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore. Salmo 45 Possa il nostro cuore ardere sempre per la parola di Dio e per il Signore, in modo che possiamo onorare e amare Cristo Gesù con tutto il nostro essere. Possa il nostro cuore ardere sempre per la parola di Dio e per il Signore.